buongiorno oggi sono sopra ausiglia l'omonimo lago per la precisione località monte quota 800 e qualcosa metri quindi sono in provincia di savone in alta val bormida per questa passeggiata tra questi bellissimi boschi che mi porterà al monte camulea sui 1200 metri e da cui secondo i miei calcoli dovrebbe esserci un bellissimo panorama aperto sulla pianura e su tutto l'arco alpino su cui ha nevicato questa notte quindi spero che le nubi che vedo sulle vette circostanti no non mi non mi neghino questa spettacolare visuale e mi ripaghino della levataccia alle ore 850 mamma mia vabbè a dopo ragazzi eccomi al famoso video per il brick della femmina morta dove in mezzo c'è anche il brick sputafame e i fiumi di queste colline mi fanno sempre piegare dalle risate e niente fine fino a me non è stato molto segnalato al sentiero insomma anzi proprio per niente qualche tacca gialla ma ci sono un milione di deviazioni insomma senza l'app dei sentieri sarei finito probabilmente non so magari in trentino e adesso invece c'era quel cartello lì c'è neanche un altro qua che mi indica proprio monte camulea insieme ad altre indicazioni vediamo eccoci e niente si sta già coprendo maledizione maledizione spero che si veda qualcosa dalla vetta no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E vabbè, peccato, insomma. Comunque, vabbè, si sta molto bene qua. Mi sono rilassato, ho fatto un riposino e adesso me ne torno giù. Quindi vi lascio le ultime immagini, vi saluto. Adios. 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 Adios.